La parrocchia di Međugorje Cari figli, oggi vi invito a testimoniare la vostra fede nei colori della primavera, che sia la fede della speranza e del coraggio. Oggi vi invito a testimoniare la vostra figlioli. La vostra fede non venga meno in nessuna situazione e neanche in questo tempo di prova. Camminate coraggiosamente con Cristo risorto verso il cielo che è la vostra meta. Io vi accompagno in questo cammino di santità e vi metto tutti nel mio cuore immacolato. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. I messaggi del 25 del mese sono strutturati sempre in un modo perfetto, cioè sono sempre 4 o 5 esortazioni con l'introduzione, cari figli, e con la chiusura. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Sono messaggi come quello di oggi, che stiamo commentando, dove, come ha detto giustamente Maria, la Madonna dà sempre speranza in ogni caso. E comunque vanno analizzate attentamente perché, come dire, la Madonna ci fa delle rivelazioni implicite che noi dobbiamo cercare di capire. Magari noi sorvoliamo su parole che magari non ci sono chiare e invece sono quelle che vanno esaminate e vanno comprese. Il messaggio di oggi è un messaggio molto primaverile, è un messaggio pasquale. E, come dire, la Madonna il 25 marzo era il tempo della passione, quindi, è quello che vivevamo in quel momento. E quindi ci ha parlato del potere delle tenebre, del male della morte. E quindi, invece, adesso entra nel clima pasquale della resurrezione e nel medesimo tempo, il clima primaverile, la Madonna ha sempre fatto questo abbinamento meraviglioso fra la Pasqua e la Primavera e possiamo dire che nei suoi messaggi la primavera è l'ordine del giorno perché la Madonna ha sempre visto nel risveglio della primavera, nella locca della natura per la vita, ha sempre visto un esempio per noi per far rifiorire la fede e uscire dal gelo, dal freddo, dalla morte, del male, del peccato e fare germogliare la vita della grazia. Oggi addirittura ci presenta i prati pieni di fiori di tutti i colori per dirci appunto che sono un'immagine della fede e quindi in questo contesto, diciamo, di speranza e di gioia dovevo collocare i passaggi del messaggio, a mio parere, che sono molto indicativi del momento verso il quale stiamo andando. Allora, come vi ho detto, la Madonna è molto ordinata in questi messaggi, mentre i messaggi di Miriana, diciamo, si lasciava andare al trasporto dell'amore, della poesia, nei messaggi del 25 del mese è sempre molto ordinata, cioè sono dei comunicati autorevoli della madre della Chiesa e della Regina è proprio una regina, quella che parla a Međugorje della pace, quindi sono messaggi bellissimi ma direi, come dire, ben organizzati in una struttura logica che ci dimostra anche l'altezza, la bellezza e l'intelligenza, la sapienza con cui questi messaggi sono comunicati. Allora, vediamo il primo passaggio. Oggi vi invito a testimoniare la vostra fede nei colori della primavera, che sia la fede della speranza e del coraggio. Allora, cari amici, la prima cosa che dobbiamo dire è che questo messaggio ha per tema la fede. Di fatti è citata almeno due volte, poi è citata anche la speranza che è la fede nella versione dell'avvenire e poi da notare che per ben due volte ancora, perché non aveva già fatto nei messaggi precedenti, la Madonna parla del coraggio. Allora, però comunque il tema sicuramente è quello della fede. Allora, la Madonna prima di tutto ci invita alla testimonianza della fede nei colori della primavera. Allora, ci siamo confrontati con Maria anche per comprendere bene questo messaggio. Indubbiamente Maria giustamente ha sottolineato che questo sta a indicare la rifioritura della nostra fede, cioè far rifiorire la nostra fede che è un po' appassita, magari è seccata, per mancanza d'acqua, per mancanza di preghiera, per mancanza di sacramenti, specialmente in questo periodo in cui il sacramento dell'Eucaristia e della penitenza sono stati un po', diciamo così, a causa del virus, un po' abbandonati, almeno da una parte della gente. E quindi, questa è sicuramente una bella interpretazione, cioè fate rifiorire la fede così come i prati rifioriscono la primavera, però a mio parere c'è qualcosa di più, perché c'è il richiamo ai colori della primavera, cioè se noi guardiamo un prato in primavera, qui fuori di noi ci sono dei prati bellissimi, pieni di fiori, margherite, fiori gialli, fiori bianchi, fiori rossi, insomma, è una... poi, ovviamente, quelli che hanno il giardino lo sanno meglio di me, e quali sono le meraviglie dei fiori in primavera, allora, che colpo d'occhio danno? Danno un colpo d'occhio gioioso, festoso. Allora, la nostra fede sia gioiosa, sia festosa, sia la fede di chi sa, che è illuminato dalla luce di Cristo, che è stato salvato da Cristo in croce, che è risorto con Cristo alla vita spirituale, che la sua vita è un cammino verso l'eternità, quindi questa fede, che illumina la vita, che da sapore alla vita, come ha detto la Madonna, la fede fa scoprire la bellezza, la grandezza della vita, sia una fede gioiosa, festosa, come i fiori di primavera. Poi puoi dire anche una fede variopinta, nel senso proprio che ognuno, pur avendo la medesima fede, poi la vive sempre in un modo molto personale, per cui è anche bello come, diciamo, ci sia, come dire, una colorazione particolare della fede da parte di ognuno, perché ognuno poi alla fine, come dire, sottolinea alcuni aspetti della fede, alcuni aspetti della vita cristiana, alcune virtù più che altre, insomma, è una fede, diciamo, che non è un appiattimento, diciamo, della moltitudine, ma è una fede personale di ognuno, un'avventura veramente personale di ognuno. Non c'è un santo che sia come un altro, non c'è un rapporto con Dio che sia come un altro. Questa dunque è l'interpretazione del primo passaggio. Oggi vi invito a testimonare la vostra fede nei colori della primavera, quindi sia festosa, sia gioiosa, insomma, sia una fede che rifiorisce. Ecco, sappiamo che la fede rifiorisce come i fiori, con l'acqua, e cioè con l'acqua della preghiera. Poi la Madonna dice che sia la fede della speranza e del coraggio. Già, in queste due parole, speranza e coraggio, sono impliciti, diciamo così, sono impliciti pensieri di impegno e di difficoltà, cioè sono impliciti pensieri di difficoltà da superare, di problemi da sciogliere, di sentire erti su cui arrampicarsi, per cui è necessario la speranza e il coraggio. Perché, cari amici, il cammino della fede, in questo momento storico particolare, cari amici, è in una situazione, diciamo, per tutti quelli che non l'hanno, di timore, di paura, e anche di tentativi, diciamo, spropositati, fuori di testa, diciamo, illusori, disumani, di risolvere i problemi che abbiamo, con cambiamenti che potrebbero invece portare tante sofferenze e tante miserie nell'umanità. E quindi, subentra l'angoscia, la disperazione, la paura, la vostra sia una fede della speranza, cioè, come ci ha detto la Madonna nel suo ultimo messaggio, quando ha detto che Satana vuole impaurirvi, vuole riempire il vostro cuore con la paura del futuro, la Madonna ci ha detto che il futuro è di Dio. E quindi, cari amici, questo dovevamo averlo ben chiaro. Io ieri ho visto un video che mi è molto piaciuto, cioè, oggi si fanno molte prospettive sul futuro, è un video laico, quindi, si vedono anche volentieri, perché comunque, a volte hanno un valore di dibattito culturale, no? e, appunto, si analizzava la situazione dell'umanità, diciamo, soprattutto quella della fede, che sappiamo che, comunque, la fede sta passando un tempo di crisi, l'Occidente si sta scrizianizzando, ormai possiamo dire che il cristianesimo è ampiamente minoritario in Occidente e possiamo dire che si prepara la sua liquidazione, questo, non lo dicono, ma lo sappiamo, però il dibattito finiva col dire in una situazione del genere interverrà Dio, ecco, cari amici, questo, a mio parere, è la fede della speranza, cioè, mai dimenticare che comunque Dio sia necessario intervenire lui personalmente per rimettere l'umanità sulla retta via e questo appunto è quello che ci ha detto la Madonna appunto per quanto riguarda il tempo dei segreti e quindi mai cedere all'angoscia, mai gettare la spugna, mai dichiararsi sconfitti perché alla fine c'è sempre la preghiera, c'è sempre la speranza dell'intervento di Dio da tutta parte, pensiamo al venerdì santo, la morte in croce di Cristo, la sua deposizione e chi aveva la speranza della resurrezione? Nessuno eccetto la Madonna ma noi suoi figli anche adesso che stiamo vivendo la via crucis dopo avere la speranza dell'intervento di Dio al di sopra dalle forze della natura e poi che sia la fede del coraggio cari amici cioè oggi ci vuole coraggio perché ci vuole coraggio oggi? Perché viviamo in un contesto dove la fede è disprezzata come ha detto la Madonna avete rifiutato la fede e la croce siamo in un contesto diciamo sociale in tutto l'Occidente ma poi sappiamo che questo pensiero unico domina il mondo e d'altra parte in Occidente i cristiani sono una minoranza perseguitata che sono paesi di antica cristianità e negli altri paesi sono apertamente perseguitati e uccisi quindi questo è il motivo per cui la fede è la fede del coraggio della speranza e del coraggio cioè bisogna andare contro corrente bisogna testimoni senza aver paura bisogna professare senza aver paura bisogna crederci veramente essere convinti cari amici poi quando si è convinti non è che si dia un peso particolare alla propria vita cioè se voi pensate a quante persone muoiono per degli ideali umani per esempio nelle guerre che molte volte sono guerre diciamo non so come dire in un senso ideale una volta magari le guerre erano con gli ideali perché i soldati pensavano alla patria da difendere eccetera però a me si è fatto molta impressione come gli uomini anche per degli obiettivi umani non ci pensano due volte a sacrificare la vita mentre noi non siamo diciamo così siamo paurosi e per la nostra vita spirituale non rischiamo niente non rischiamo niente invece dobbiamo rischiare essere coraggiosi e cari amici come vedremo più avanti essere disposti anche al martirio questo è il primo passaggio vedete come è denso come è ricco oggi vi invito a testimoniare la vostra fede nei colori della primavera che sia la fede della speranza e del coraggio attenzione adesso a mio parere viene un passaggio molto importante perché chiaramente guarda al futuro figlioli la vostra fede non venga meno in nessuna situazione neanche in questo tempo di prova allora intanto incominciamo subito a chiarire questa espressione in questo tempo di prova allora voi magari avete pensato subito alla pandemia ma questa è un'impostazione sballata perché come ha detto Maria ieri ha confermato quello che ha detto anche in passato e anche io vi ho ribadito che la Madonna non ha mai parlato della pandemia in tutto questo tempo non ha mai fatto accenno se non indirettamente quando ha detto giustamente per consolarsi che se noi avessimo pregato fossimo ritornati a Dio le nostre preghiere sarebbero state ascoltate le nostre subbliche e le nostre subbliche esaudite però questo tempo di prova secondo la Madonna e anche secondo Maria è il tempo della prova della fede infatti quando la Madonna usa questo medesimo termine prova tempo di prova l'ha usato il 25 luglio del 2019 quando ha detto verranno le prove voi non siete forti regnerà il peccato ma se siete miei vincerete allora cari amici allora la Madonna noi abbiamo pensato che questo tempo di prova che veniva sarebbe stato il tempo della pandemia in realtà no è il tempo della prova della fede cioè la Madonna ci aveva detto proprio in quel tempo in quel tempo questo è il messaggio del 25 luglio del 19 il 17 settembre del 19 quindi praticamente un mese e mezzo dopo la Madonna in un messaggio a Ivan aveva detto che Satana aveva completato il suo piano perché l'umanità si era messa al posto di Dio quindi cari amici il tempo di prova è iniziato nel senso che come dire come dire i padroni del mondo chiamiamoli così come o il padrone del mondo come lo chiama Robert Benson nel suo famoso romanzo intitolato appunto i padroni del mondo i padroni del mondo cari amici hanno deciso che ormai il cristianesimo è superato che bisogna fare diciamo così un governo mondiale e accanto al governo mondiale una religione mondiale che sia la sintesi di tutte le religioni questo è il programma che è stato elaborato da tempo e che sta ormai diciamo così nella fase dell'attuazione è nella fase dell'attuazione quindi cari amici e da per il momento le cose sono ancora diciamo in una fase di tolleranza ma è chiaro che non è lontano il momento in cui ti diranno adesso la religione è questa qui cioè quella che quella delle classi dirigenti dei gruppi dirigenti del mondo la religione sappiamo qual è cioè è la religione atea materialista evoluzionista panteista che sostituisce il cristianesimo e che comunque preparerà diciamo questo evento e questa entrata in questo santuario umano dove viene adorato l'uomo lo preparerà attraverso una omologazione di tutte le religioni allora attenzione cari amici questo è il tempo ancora della tolleranza cioè in poche parole possiamo parlare apertamente possiamo sostenere la nostra religione possiamo dire che crediamo in Dio Gesù Cristo unico salvatore del mondo che non c'è altro salvatore al di fuori di Lui che il cristianesimo è l'unica religione rivenata da Dio è l'unica religione vera al momento dicendo questo veniamo sopportati ma verrà il momento in cui dovremmo tutti aderire dovremmo tutti sacrificare dovremmo tutti come tempo dei romani sacrificare l'incenso diciamo così al nuovo idolo il nuovo idolo sarà appunto diciamo l'umanità stessa che si è messa al posto di Dio per cui tutti quelli che non sacrificano al nuovo idolo verranno perseguitati questo a mio parere è il senso perché la Madonna non dice mai le frasette tanto per dirle ogni sua frase è densissima è profondissima cioè la Madonna dice la vostra fede non venga meno in nessuna situazione nessuna situazione cosa vuol dire neanche quando sarete perseguitati neanche quando vi si chiederà di rinnegare la vostra religione neanche quando si dirà di bruciare bruciare l'incenso al nuovo idolo che è l'uomo stesso che l'umanità stessa che si è messa al posto di Dio ebbene cari amici la vostra fede sia coraggiosa sia nella speranza non venga meno in nessuna situazione neanche quella della persecuzione neanche quella del martirio e di fatti dice e subito appunto collega questa situazione che si sta preparando all'attuale noi siamo nel tempo della prova della fede indubbiamente siamo nel tempo in cui dobbiamo andare contro corrente siamo nel tempo in cui il pensiero unico viene diffuso minuziosamente ovunque siamo nel tempo della dittatura dei media di tutti i poteri umani impongono la dittatura di questo pensiero diciamo così alternativo al cristianesimo e presto si arriverà alla persecuzione dei credenti come cari amici ci viene chiaramente rivelato nel terzo segreto di Fatima quando la chiesa col papa i vescovi i cardinali i sacerdoti tutto il popolo di Dio cammina verso il calvario e cadono uno dopo l'altro morti anche il papa cade morto cari amici questo mio parere è il fulcro del messaggio è la rivelazione più importante del messaggio in ogni situazione anche quella adesso siamo nella situazione della persecuzione come si dice vellutata di tipo amministrativo di tipo ideologico di tipo masmediatico per cui il male viene esaltato il bene viene il bene viene diciamo disprezzato per cui vediamo articoli di giornali trasmissione televisive dissacratorie anche nei confronti di Međugorje si cerca di distruggere assolutamente non lo si tollera cercheranno di perseguitare i mariani ovunque cari amici ma questo è sicuro che sarà così come ha detto Papa Benevento XVI il Papa è merito il segreto di Fatima in parte si è realizzato ma in parte si deve ancora realizzare cari amici quindi questo è a mio parere il fulcro del messaggio cioè figlioli la vostra fede non venga meno in nessuna situazione e neanche in questo tempo di prova cioè noi dobbiamo essere pronti a tutto anche a dare la vita per la fede tanto bisogna morire ma vogliamo capire che bisogna morire vogliamo capire che non siamo eterni vogliamo capire che la morte è stata redenta nel senso che non viene tolta per fortuna non viene tolta perché che la morte non sia tolta è una grazia immensa così non speriamo la vita ma la viviamo più seriamente ma non c'è dubbio cari amici che la morte per chi crede è veramente stata tolta cioè come dice la Madonna nel messaggio nel passaggio successivo chi crede vive la sua vita come un pellegrinaggio verso Cristo risorto e qui cari amici siamo al terzo passaggio anche questo dirimente profondamente dirimente rispetto al clima culturale nel quale viviamo cioè camminate crede che sono tutti imperativi che dà la Madonna quando nel messaggio di Maria la Madonna parla da regina da madre ma da regina cioè comanda come una mamma comanda dice fai questo fa questo fa quest'altro dunque camminate coraggiosamente con Cristo risorto verso il cielo che la vostra metano quindi cari amici la Madonna ci dice aver ben chiaro cos'è la vita cristiana perché se non abbiamo ben chiaro cos'è la vita cristiana non abbiamo paura né della persecuzione né delle angherie che ci vengono fatte né del disprezzo del mondo né delle persecuzioni fuori dalla Chiesa e anche all'interno della Chiesa come diceva Sant'Agostino perché anche questo capita dobbiamo quindi cari amici aver ben chiaro la nostra impostazione qual è la nostra impostazione della vita noi viviamo la vita non come un lento degradare verso la morte come come quelli che sono aderiti alla nuova religione cioè quelli che sono aderiti alla nuova religione come vedono la vita siccome negano Dio negano l'anima negano l'eternità negano l'immortalità negano i comandamenti loro vedono la vita come una come si così come la vive un animale cioè l'uomo viene dalla terra viene dalla materia e dopo gli anni che gli è dato di vivere ritorna alla materia questa è la visione della vita dei seguaci della nuova religione atea materialistica evoluzionista eminentista eccetera e cari amici la loro vita che vita è è un progressivo camminare verso il nulla è una chessidra che si svuota è una candela che si consume si spegne insomma devono contare gli anni che avanzano e il tempo che rimane che diminuisce vedono il corpo che invecchia e corrono gli istituti di bellezza per rifarsi cambiarsi eccetera vedono il perire del corpo e non vedono il morire dell'anima insomma è la vita diciamo diciamo pure satana si è preso gioco e vi ha rinchiuso in un buco nero dal quale non è riuscito ad uscire questa è la visione della vita della nuova religione della nuova religione idolacra che allora l'uomo ridotto un animale quindi la madonna dice voi siete alternativi voi vivete la vita come cammino coraggioso certo coraggioso verso il cielo con Cristo risorto vincitore del male della morte cioè noi cristiani dobbiamo testimoniare la salvezza cristiana che è Cristo risorto è l'agnello di Dio che è spiato al nostro posto e per il nostro amore i peccati del mondo li ha distrutti col suo amore li ha perdonati attende il nostro pentimento attende che ci battiamo il petto che ci inginocchiamo davanti alla croce e ci perdona ci dà il perdono dei peccati ci dà la pace del cuore ci dà la vita l'amicizia imposta la vita come cammino verso l'eternità ci dà la vita eterna e la risurrezione del corpo alla fine del tempo questa è la salvezza cristiana che va opposta la salvezza cristiana va opposta alla trappola satanica del mondo che cosa ti ha offerto il mondo cosa ti offre il mondo cioè che salvezza ti offre il mondo che salvezza ti offre la tecnica o la scienza che salvezza ti offre non è neanche capace di combattere un virus e in più però e forse questo virus l'ha proprio fatto la scienza senza contare poi le armi di cui ha accumulato il mondo e la porta alla distruzione qual è la salvezza del mondo? Dio ti scampi è libero da quella salvezza noi testimoniamo alla gente che non sa più dove attaccarsi la salvezza cristiana che è Cristo risorto e mostriamo come si vive la vita come cammino verso l'eternità verso la gioia del cielo verso la meta della felicità eterna infine cari amici l'ultimo passaggio a mio parere la Madonna fa riferimento al mese di maggio e non poteva farlo il 25 marzo era nel tempo della passione del Signore la Madonna ha fatto neanche accenno alla Pasqua proprio per concentrarci sulla 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 passione di Cristo però Cristo 25 apri la Madonna ha fatto riferimento al mese di maggio perché il mese di maggio è legato alla all'apparizione di Fatima e voi sapete che proprio la promessa di Fatima è quello del trionfo finale del cuore immacolato di Maria e anche l'invito alla devozione al cuore immacolato di Maria di cui la Madonna ha incaricato su Lucia di Fatima di diffondere nel mondo anzi la Madonna ci aveva detto che se avessimo conservato la Russia il suo cuore immacolato avremmo evitato e se ci fossimo convertiti avremmo evitato la seconda guerra mondiale la Madonna a Mezzugorio ha detto che lei era venuta qui a Mezzugorio per realizzare i misteri di Fatima quindi la promessa di Fatima che in parte si è già realizzata con la conversione della Russia la libertà religiosa in Russia negli altri paesi europei e nel medesimo tempo cari amici la Madonna ci ci apre lo sguardo sul futuro perché è chiaro che la via crucis che abbiamo davanti sarà una via crucis vera cari amici non facciamoci illusioni perché è chiaro che è Satana prima di voi avete immaginato non so se avete mai visto delle serpi che sono attaccate con un bastone no e man mano che si sentono attaccate reagiscono una violenza incredibile e così il demonio cari amici sta mettendo tutta la sua forza per creare confusione odio guerra nel mondo perché sente che la Madonna gli stia schiacciando la testa quindi la Madonna in questo ultimo passaggio del messaggio bellissimo ci dice io vi accompagno in questo cammino di santità cioè cammino con Cristo risorto verso il cielo e vi metto al riparo nel mio cuore immacorato come disse a Lucia dovrei riparo nel mio cuore immacorato così in questo tempo che ci aspetta cioè in nessuna situazione neppure in questo tempo di prova che si prolungherà cari amici a mio parere con la persecuzione aperta e voi sappiate che io vi accompagno e vi metto al riparo vi metto tutti al riparo nel mio cuore immacolato cari amici e essendo nel suo cuore immacolato saremo suoi e se saremo suoi vinceremo quindi cari amici messaggio pieno di speranza e di gioia ma invito all'applicazione alla decisione al coraggio alla speranza quante volte la Madonna ha detto siete forti e saldi nella fede quante volte la Madonna in questi ultimi mesi ha parlato di coraggio questo la dice lunga sulle grandi battaglie che ci attendono adesso concludiamo con la rilettura del messaggio cari figli oggi vi invito a testimoniare la vostra fede nei colori della primavera che sia la fede della speranza e del coraggio figlioli la vostra fede non venga meno in nessuna situazione e neanche in questo tempo di prova camminate coraggiosamente con Cristo risorto verso il cielo che è la vostra meta io vi accompagno in questo cammino di santità e vi metto tutti nel mio cuore immacolato grazie per aver risposto alla mia chiamata grazie a tutti